perché martedì e grasso tutti i giorni salienti del carnelare il primo giorno di apertura del carnelare e il giorno di chiusura vengono chiamati grassi per quale motivo perché si fa incetta di cibi grassi ciò in base al fatto che appunto si festeggia e si fa scorte di cibi grassi in vista del periodo magro dell'acqua resina ciao al prossimo video vi aspetto